Dal 2013 ospitava ogni anno turisti, studenti, persone che transitavano nella città di Padova nel suo Bed and Breakfast di Via Trieste, a ridosso del centro storico e della stazione ferroviaria. Peccato che nonostante un primo richiamo di Polizia Locale e Guardia di Finanza abbia dimenticato di regolare le sue pendenze con il fisco. Nei guai è finito un cittadino italiano che per anni non ha tenuto registri e scritture contabili, evadendo circa 300.000 euro. Un primo controllo fatto da Polizia Locale e Questura aveva portato una verifica per gli anni dal 2013 al 2016. Una seconda verifica attraverso il portale siatel.fisco aveva fatto nascere sospetti al personale del comune di Padova che ha fatto una nuova segnalazione alle fiamme gialle. Non solo evasione, all'interno della struttura lavorava in nero un addetto, per questo il titolare del Bed and Breakfast dovrà pagare una multa di 1.500 euro. Grazie a tutti.